Lei è felice di questa decisione che sembra definitiva che non torneranno qui? Io sono... certo sono contento, però non mi fido. Lei non si fida, quindi pensa che sia un giochino da parte della Rai. No, no, perché siccome vedo che gli articoli stanno mettendo in evidenza soltanto, diciamo così, le cose minime dei nostri disagi, non vorrei che ci fosse una programmazione di far vedere che, insomma, noi siamo cretini. Ecco, io le volevo chiedere, ma quali sono questi disagi? Quali sono questi disagi? Perché ad esempio il bar dice a noi guadagnavamo più soldi, le attività commerciali stavano meglio. Certo, perché il bar apriva le 4 e poi c'erano tutti quelli che dovevano... Perché iniziavano alle 5 e mezza e non è che... Quindi diciamo la confusione e le canzoni iniziavano a cantare alle 5 e mezza del mattino? Alle 5 e mezza era la preparazione. Ok, ma facevano prove anche cantando alle 5 e mezza del mattino? No, no, cantando no, prima delle 7, 7 e mezza no. Però c'erano rumori della preparazione, perché non è che facevano solo dentro la gabbia, la maggior parte era fuori che venivano riprese, ma poi il fatto che si bloccasse una strada dalle 5 del mattino alle 10, 5 giorni alla settimana, per quale motivo? Eh, guardi, infatti... Noi siamo liberi di circolare, dobbiamo essere liberi di circolare per strada e sui marciapieni. Non può, se non sia pubblica utilità, non puoi bloccare. Questa è la nostra protesta. A parte il rumore e poi soprattutto la sporcizia, perché facendo quegli spettacoli c'era molto uso di molto materiale scenografico di plastica, che se lei vede c'è ancora intorno adesso lì. Ecco, ma lei comunque abita, diciamo, in un palazzo che ha i lati opposti della via, seppur piccola la via, lei lo sentiva chiaramente la confusione? Eh, certo, ma si sente tutto, perché fa come un imbuto via Siago, non è che si sente solo lì. Io lo sentivo in misura minore, ma si sente e si vede dappertutto. Ma poi soprattutto è per il passaggio, perché io devo chiedere permesso per camminare sul marciapiede perché vengano a vedere Fiorello, non esiste questo fatto. E poi tutti i cavi messi per terra per cinque mesi, i cavi dai pullman rai messi per terra, di notte si vedono pochi, ma non è possibile. Senta, no, io le volevo chiedere un altro aspetto. E' venuto per caso qualcuno della RAI a cercarvi per proporvi un'indennità? No, assolutamente. Quindi queste sono tutte informazioni false? No, 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 io l'ho detto al Corriere, il Corriere l'ha pubblicato con il mio nome, nessuno ci ha chiesto niente e noi ne abbiamo nessuna intenzione di chiedere qualcosa. Ma se fossero venuti ad offrirvi un'indennità, voi sareste stati favorevoli? No, assolutamente, perché non è questione di identità, è questione di libertà del cittadino, di muoversi. Noi non eravamo liberi di muoversi. Ecco, e che cosa si sente di dire a tutti quei quartieri, diciamo, sono arrivate già cinque municipi proposti ristituzionali? Lo so, lo so, perché se a Fiorello vuole fare uno spettacolo per strada, non è che vuole fare uno spettacolo in teatro, se no lo facevano pure il Guido delle Vittorie. Lui l'innovazione è fare uno spettacolo per strada. Se loro si sentono di bloccare delle strade per cinque mesi, per sette ore al giorno, lo facciano. Però lei si sente di consigliargli di non farlo, perché magari visto da fuori è bello, divertente, ma per chi si ritrova poi questa situazione? Noi abbiamo fatto questo, non è che l'abbiamo fatto contro lo spettacolo, assolutamente no. noi abbiamo fatto contro i disagi che lo spettacolo ha causato a noi che abitiamo qui. Poi Fiorello ognuno lo giudica come vuole. Ma è vero questo fatto che mi hanno detto qui delle persone che mi hanno dato il suo nominativo che lei l'ha annaffiato, cioè che c'è stato un diverbio di questo tipo? No, è soltanto che l'ultimo giorno sono venute 40-500 d'epoca, alle 5.22 del mattino. Naturalmente con i motori. Diciamo che siamo andati ancora oltre in quel caso. Perché hanno sfilato poi dopo, ma puoi venire alle 5.30 del mattino e tenere i motori accessi, un'acqua ha fatto bene a tutti per rinfercarsi la testa più che altro. Assolutamente. Il bar ha detto che le persone che protestano sono persone tristi, lei quindi non si ritiene una persona? Io non sono assolutamente una persona triste. Perfetto. Mi può ricordare il suo nome e cognome? Io sono Gian Domenico Mortara. Perfetto. Lei da quant'è che vive qui a Via Siaco? Dal 2001. Dal 2001 e nonostante tutte le attività della Rai, lei non ha mai visto così tanto pubblico una selezione del genere? Ci sono stati sempre disagi perché qui è facile che arrivino personaggi che vanno in radio e quindi c'è la macchina della polizia eccetera, però così per 5 mesi perché non è il problema di un giorno, è il problema per 5 mesi. Quindi se era una puntata settimanale si poteva anche fare? Non è problema, ma per 5 mesi non si può. Diciamo una volta Fiorello faceva I Ticola Fiore che era più circoscritta. Beh, era un'altra cosa. Invece questa siamo andati proprio... Ma di parte lui l'ha ammesso che gli è sfuggita di mano. Vabbè, vedremo quale municipio lo ospiterà e se poi avranno anche loro da ridire. Noi qua stiamo. Perfetto. Quindi niente indennità, non apprezzo la vostra serenità. Ma nemmeno... ma non è il nostro principio. Perfetto. Noi teniamo alla nostra libertà di muoversi e nessuno può impedire... Qui c'ha il box con la macchina parcheggiata, non poteva nemmeno... Se doveva uscire, doveva uscire contro mano. Ma perché? Su questo ha perfettamente ragione insomma. Perché se io devo andare in fondo alla strada, devo usare solo il marciapiede di sinistra, che era quello occupato dagli amici, dai fan, e devo chiedere permesso. Perché devo chiedere permesso? Non esiste. Ma difatti, io molte volte, quando la gente veniva e la vedevo dal terrazzo, veniva a fotografare o a farsi un selfie, non con Fiorello, ma con il gazebo. Perché era diventato un oggetto di culto. Allora io scendevo giù e gli dicevo, bene, sono contento che siano venuti. Però sappiate che per noi residenti i disagi sono questi. E tutti quanti hanno detto, beh sì, veramente, questo noi non ci abbiamo pensato. Perché insomma... Lei ha ragione. E cosa si sente di rispondere all'amministratore delegato della Rai che ha detto, beh, queste persone in realtà non si rendono conto che la loro casa farà anche più soldi grazie a questa cosa? Questo è una stupidaggia. Non è vero. Ma poi guardi, noi come gruppo abbiamo scritto la Rai, eh? Quando avete scritto per la prima volta la Rai per protestare? Allora, la prima volta ho scritto io a febbraio. E non le hanno risposte? Sì, sì, hanno risposto chiedendo scusa. Poi abbiamo scritto con il gruppo ma non ci hanno risposto. Ecco, ma quando hanno chiesto scusa non hanno minimamente accennato a un cambio del programma o di tipologia? No, 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 hanno detto che era un'innovazione, che sarebbero stati attenti, eccetera. Però questa attenzione non c'è stata. Però il gesto di Fiorello di smarcarsi anche dalla Rai che fino a 24 ore prima parlava di trattative con voi, di partecipare alle riunioni e tutto, è stato apprezzato? È stato apprezzato il gesto di Fiorello che si è smarcato? Ma non lo so, lui sa quello che vuole e per raggiungere il suo scopo usa tutto quello che può. Quindi pensa che sia un po' calcolatore? Non lo so, non lo so. Va bene, io la ringrazio molto, buona serata. Ma di che giornale è? Tag24.it dell'Unicusano. Va bene. Grazie mille, arrivederci.